Mobilità di marca e il comando provinciale dei carabinieri di Treviso uniscono le forze per contrastare i fenomeni di intemperanza all'interno dei mezzi pubblici. Quasi 400 autisti della MOM hanno preso parte a tre incontri con i militari dell'arma per condividere conoscenze delle norme, esperienze e buone pratiche in tema di sicurezza e prevenzione dei conflitti. Il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del comando operativo di Treviso, fa il punto delle richieste che arrivano alla centrale. Le segnalazioni più ricorrenti classiche sono il mancato possesso del documento di viaggio che molto spesso può generare delle criticità ulteriori in termini di sicurezza perché molto spesso c'è anche il rifiuto di fornire le proprie generalità. Ecco in questo senso sono stati forniti ovviamente dei suggerimenti su quello che prevede la normativa e il fine ultimo è proprio quello di una sicurezza partecipata affinché sia gli autisti di MOM sia gli utenti ovviamente dei mezzi pubblici possano così operare, viaggiare in serenità. Sono in particolare gli episodi legati alle baby gang a destare la maggiore preoccupazione. È un fenomeno emergente non solo nella provincia di Treviso quindi anche qui la finalità è quella di ovviamente segnalare, identificare questi ragazzi spesso appunto minorenni che si rendono protagonisti magari ecco di episodi di danneggiamento piuttosto che di disturbo della normale viabilità, della normale trasporto degli utenti. Il colonnello Turrini assicura che particolare attenzione verrà riservata a quelle linee più problematiche come la Conegliano-Pieve di Soligo e a tutte le autostazioni.